Ciao, un saluto a tutti da P. Sono qua quest'oggi con un nuovo video, un nuovo video molto breve, un video diciamo per pubblicizzare quello che è il mio lavoro. Infatti ricomincio quella che è l'attività di editing e non essendo più in un clan sarò disponibile per tutti. Infatti aspetto diversi contatti se avete bisogno per qualsiasi cosa, editing, montaggi, background, qualsiasi cosa che riguardi il web, il computer, chiedete pure. Io ci sono, se ne può parlare, non costa nulla, ci si può mettere d'accordo, se volete vedere come lavoro, non c'è alcun problema, lavori ne ho già fatti parecchi, non avrò nessun problema a farveli vedere. Bene, sperando che iniziano delle nuove collaborazioni che possono essere utili sia per me sia per voi, attendo di essere contattato. Intanto volevo darvi ancora un'informazione perché su questo canale ci sarà una novità, una rubrica settimanale che potrà interessare a molti di voi, una rubrica che riguarda diciamo un po' quelli che sono i giochi. Questa rubrica si chiamerà Infogames e non sarò da solo a farla ma ci sarà un mio amico e diciamo che si occuperà della parte soprattutto riguardante a FIFA che sarà un po' una rubrica all'interno della rubrica. Anche, scusate la ripetizione ma non saprei come definirla altrimenti. Sarà una cosa davvero interessante, vi consiglio di seguirla, non sarà affatto noiosa anche perché conoscendo il tipo poi imparerete a conoscerlo anche voi e si presenterà con quella che sarà la prima puntata che uscirà tra breve. Sperando di fare visualizzazioni... Abate! Abate! All'ovattesimo! Abate! Ecco, potete iniziare a capire che tipo sia, sta appunto giocando a FIFA e come vi dicevo lo conoscerete, speriamo di trovare gente che ci segua perché abbiamo veramente delle intenzioni, ci impegneremo per darvi sempre le novità, sempre dei buoni consigli e anche per farvi divertire. Ciao a tutti ragazzi e mi raccomando, non dimenticateci!